Una voce che incanta Sanremo. Un momento magico a Sanremo, lo avete sentito? Questo è speciale su uno degli eventi più emozionanti di Sanremo 2024. Stasera vi portiamo nel cuore della musica, dove Angelina Mango, accompagnata da un eccezionale quartetto d'archi, ha regalato un'interpretazione indimenticabile di La Rondine. La serata di ieri a Sanremo è stata testimone di un evento che rimarrà nella storia del festival. Angelina Mango, già nota al pubblico per la sua voce dolce e penetrante, ha deciso di intraprendere un viaggio musicale unico, unendo le sue capacità vocali all'eleganza senza tempo di un quartetto d'archi. La Rondine, brano scelto per questa esibizione, non è solo una canzone. E voi? Cosa ne pensate di questa performance storica? Condividete la vostra opinione nei commenti. È un viaggio emozionale che attraversa speranze, sogni e la delicatezza dei sentimenti umani. La performance di Angelina e del quartetto d'archi ha trasceso il palco, portando il pubblico in una dimensione quasi eterea. La scelta di Angelina di collaborare con un quartetto d'archi non è stata casuale. In un'intervista concessa poco prima del festival, ha rivelato come la ricerca della purezza del suono e l'espressione delle emozioni più intime siano state le guide di questo progetto artistico. Se amate la musica e non volete perdervi momenti unici come questo, iscrivetevi ora al canale, lasciate un like e attivate la campanella delle notifiche. E il risultato? Un'ovazione che ha riempito il teatro, un momento che molti già definiscono storico per il Festival di Sanremo. Questo evento non è solo una dimostrazione del talento e della versatilità di Angelina Mango, ma anche un promemoria del potere unificante della musica. In un mondo dove le differenze spesso ci dividono, momenti come questi ci ricordano che l'arte, nella sua espressione più pura, può davvero unirci tutti.